Ha evidenziato l'emergenza attuale, lo scasso peso dato alla ricerca nei finanziamenti e nell'adeguamento tecnologico è uno degli squilibri più vistosi del nostro Paese. Il potenziamento della ricerca è oggi cruciale non solo per le scienze applicate ma anche per le humanities. La storia non è lo studio di un passato altro da noi come ha dimostrato ancora una volta Prosperi nel suo ultimo libro Un tempo senza storia. La storia è strumento indispensabile per nutrire la coscienza critica della gravità dei problemi del presente, per rafforzare i legami tra le generazioni, per uscire dalla trappola delle falsificazioni e delle ricorrenti banalizzazioni, per promuovere una cultura della tolleranza e del rispetto dei diritti umani. Al pari delle altre scienze la storia deve costantemente rivedere risultati, metodi e strumenti. In questa fase si parla molto di transizione digitale. Come storici dobbiamo porre l'esigenza di digitalizzare lo straordinario patrimonio degli archivi italiani, porlo in sicurezza ed aprirlo agli studiosi di tutto il pianeta, seguendo così l'esempio di altre nazioni anche a nordicine come la Francia che ha già intrapreso questo percorso. Missione dello storico non è chiudersi in sterili quanto raffinati specialismi, ma dialogare con le altre scienze umane. Non a caso le fasi più alte della storiografia internazionale sono state quelle in cui il dialogo tra le discipline è stato più vero e intenso e penso soprattutto al primo novecento, alla esperienza delle annal, quando si sono aperti i grandi cantieri di storia sociale, le inchieste di demografia storica, il dossier sulla storia del clima e dell'alimentazione. Tutti i temi che oggi nel contesto della globalizzazione e nel mutato rapporto tra i cantieri del sapere ci vengono riproposti con forza. L'Accademia perciò può svolgere un ruolo cardine nel confronto tra le scienze e le humanities, nel nome naturalmente del dialogo costante e dell'attento ascolto reciproco.